ciao a tutti è un piacere essere qui con voi per chi non mi conosce il mio nome rossella pani io sono una coach spirituale e un insegnante di connessione angeliche e di guarigione con le nuove frequenze di luce con l'arcangelo michele in questo video ti parlerò del mio prossimo seminario dal vivo in presenza avrai la possibilità di scegliere se partecipare al seminario di due giorni sul percorso completo di guarigione energetica con le nuove frequenze di luce oppure ben quattro giorni ok dove imparerai anche la connessione al sé superiore permettimi di spiegarti di che cosa si tratta nello specifico la guarigione con le nuove frequenze di luce è una forma di riequilibrio energetico che comprende tutte le energie di guarigione fino ad oggi conosciute ma si espande in un nuovo livello chiamato dalla scienza luce ed informazione questo nuovo livello di guarigione aiuta a portare equilibrio in tutti i livelli fisico mentale emozionale spirituale laddove la tua anima sceglierà per te non può essere garantita alcun tipo di guarigione in quanto arriverà a te ciò che è giusto per te e per il tuo massimo bene queste nuove frequenze di luce aiutano a riconnetterci con la nostra anima con la nostra vera essenza e col nostro scopo divino in quanto energeticamente parlando ci riportano nella direzione dell'anima nella direzione più giusta per noi e per il nostro massimo bene in questi due giorni imparerai nei due giorni nel weekend sarà comunque un percorso completo in quanto riguarda l'intera formazione sulla guarigione energetica con le nuove frequenze di luce imparerai la guarigione in presenza la guarigione col tocco l'auto guarigione la guarigione a distanza la guarigione con la foto la guarigione multipla la guarigione con lo sguardo la guarigione di liberazione quindi saranno molteplici gli aspetti della guarigione che imparerai in questo percorso di due giorni un percorso intenso dove si farà tantissima esperienza con le frequenze ci sarà un aspetto diciamo importante da comprendere sulla protezione sulla liberazione sul radicamento e sulla purificazione saranno trasmessi tutti gli insegnamenti che io stessa ho ricevuto dall'arcangelo michele quindi questo lavoro è un lavoro molto molto potente si ripeto ci sarà l'aspetto dell'insegnamento verbalizzato per così dire le frequenze vengono anche trasmesse attraverso le parole ma si lavorerà tantissimo nei lettini da massaggio quindi sarai tu a facilitare la guarigione sugli altri saranno gli altri a facilitare la guarigione su di te quindi vi sarà un interscambio di luce e di amore tra te e le altre persone tra te le frequenze quindi veramente sarà un'esperienza straordinaria meravigliosa se ti senti chiamato se ti senti chiamata voler fare questo tipo di esperienza io credo di che è molto importante seguire il proprio sentire seguire la propria anima e l'anima che ci guida nella direzione più giusta per noi per il nostro massimo bene volevo anche informarti che alla fine di questo percorso di due giorni verrà anche rilasciato un attestato di formazione da parte dell'associazione connessioni angeliche ma se tu sei pronto se tu sei pronta un livello superiore un livello successivo al percorso di guarigione di due giorni potrai anche accedere al percorso di connessione al sé superiore cos'è la connessione al sé superiore consiste in una tecnica molto potente che è stata da me modificata e canalizzata quando già praticava un altro tipo di modalità l'arcangelo michele mi ha trasmesso la connessione al sé superiore ossia la riattivazione non solo a dei meridiani e delle linee assiattonali del corpo ma anche scusate forse l'ho già detto dei chakra ok a partire dal dodicesimo chakra dove è presente il nostro sé superiore fino al primo chakra per radicare la nostra energia fino al centro della madre terra in un interscambio di luce di amore quindi questa tecnica questa modalità verrà verrà come dire facilitata attraverso l'utilizzo delle nuove frequenze di luce quindi per poter accedere a questo nuovo livello di guarigione è importante aver già partecipato al seminario di guarigione con le nuove frequenze o nel sabato e la domenica oppure chi ha già partecipato al mio seminario in precedenza anche online anche il percorso di coaching di due mesi assolutamente potrai partecipare al percorso di connessione al sé superiore di due giorni requisito fondamentale ricevere la tua connessione al sé superiore personale avrai la possibilità di ricevere questa connessione nel weekend del sabato e della domenica durante il seminario di guarigione naturalmente nelle pause direttamente da me o da un mio da un membro del mio team io credo che se si senti chiamato e chiamato in questa direzione non esitare a contattarmi io ti saluto un bacione a presto ciao ciao